Ben ritrovati con questo appuntamento settimanale di Vivere l'Europa. Questa sera parleremo dei fondi strutturali europei, vale a dire i fondi che l'Unione Europea, con programmi di sette anni, mette a disposizione delle regioni sfavorite dell'intera Unione Europea. L'Italia è il terzo paese europeo beneficiario di questi fondi, dopo la Polonia e la Spagna. Nel periodo 2007-2013 l'Unione destinerà al nostro paese 59 miliardi e 413 milioni di euro, di cui quasi 28 miliardi andranno agli obiettivi convergenza, competitività regionale e occupazione. La fetta più grossa di questi fondi, 43 miliardi e 600 milioni, andrà alle regioni che fanno parte dell'obiettivo convergenza e competitività, vale a dire la nostra regione, la Puglia, la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Basilicata, mentre gli altri 15 miliardi e 800 milioni andranno alle altre regioni italiane. I FAS, che è la sigla che indica i fondi per le aree sottosviluppate, è una torta di altri 63 miliardi di euro e saranno ridotti per questo settennio di circa 12 miliardi e 500 milioni. In un dossier presentato nei giorni scorsi a Bruxelles dall'onorevole Gianni Pittella, che è membro della Commissione per il bilancio del Parlamento europeo, un dossier sullo stato di esecuzione dei fondi strutturali 2007-2013, è emerso un quadro preoccupante dei fondi strutturali 2007-2013, perché in questa nuova programmazione c'è appena lo 0,3% di pagamenti dichiarati, cioè 144 milioni di euro già spesi, quindi praticamente zero di tutta quella massa di fondi destinati alle nostre regioni. secondo l'onorevole Pittella siamo ancora in tempo per recuperare il ritardo, sia per i fondi del 2000-2006, di quei sette anni precedenti, che si possono spendere fino a due anni successivi alla scadenza, e quindi fino a fine 2009, sia per i 43 miliardi dei fondi 2007-2013. Noi abbiamo ascoltato il parlamentare europeo, l'onorevole Pittella, che è a Bruxelles, in collegamento con noi, al quale rivolgiamo alcune domande. Ecco, onorevole, vi sono motivi reali e giustificazioni serie per questi ritardi nello spendere i fondi assegnati, come è sempre stato in Italia? Il negoziato tra governo italiano e Commissione europea è stato fatto, è stato concluso in ritardo a metà del 2007, le regioni e lo stesso governo sono impegnate a spendere le risorse finanziarie della vecchia programmazione, quella che è scaduta nel 2006, e poi c'è stata un'azione truffaldina, tra virgolette, del governo italiano, che ha preso un po' di questi soldi e li ha buttati in altri obiettivi, quando si è dato i soldi a Roma Capitale, 500 milioni di euro o a Catania, per risanare i bilanci di queste realtà, sono stati presi queste risorse dai fondi per le aree sviluppate. Quando sono stati presi i soldi per finanziare la esenzione del LICI, sono stati presi dai fondi per le infrastrutture di Sicilia e Calabria, fondi FAS, e ora che si vuole affrontare la crisi industriale conseguente alla crisi finanziaria, alla crisi economica, alla recessione, si vogliono prendere quei fondi. Insomma, significa mettere veramente a repentaglio il budget che è stato destinato all'Unione Europea per le regioni in ritardo di sviluppo, e questo non va affatto. E allo stesso tempo però bisogna accelerare la spesa di queste risorse. Ecco la ragione del mio avvertimento, un avvertimento positivo, si dice meglio prevenire che curare. Ecco, io sto facendo prevenzione. Spendiamo subito, spendiamo bene, concentriamo le risorse, ed evitiamo che questi fondi vadano distolti e deviati in altre direzioni, ed evitiamo di perdere queste risorse. Ecco, per lei qual è il dato complessivo, secondo i dati che le ha fornito la Commissione Europea per la precedente programmazione dei fondi 2000-2006, cioè quelli vecchi? Il dato complessivo è che bisogna ancora spendere un 20% di risorse della vecchia programmazione 2000-2006, non è poco del 20%, ma si può fare, io so che le regioni si stanno impegnando a fondo, e il mio stimolo va in questa direzione, ancora possiamo, le regioni e lo stesso governo possono spendere queste risorse in modo tale che alla fine della programmazione 2006 l'Italia non avrà perso nessuna risorsa. E poi l'altro punto è la nuova programmazione, 2007-2013. Ora, c'è un ritardo, l'abbiamo detto, questo ritardo si può colmare, si può colmare mettendo la macchina a camminare velocemente e a saper spendere qualcosa come 6 miliardi all'anno. Ecco, il sistema del Governo nazionale e delle regioni devono poter spendere 6 miliardi all'anno facendo uno scadenzario preciso. Ecco, si parla spesso di scadenze per la gestione di questi fondi. Cosa significano, cosa indicano queste scadenze? Al 31-12-2009, quindi fra un anno e due mesi, dovremo spendere 18 miliardi. Ecco, di questa situazione, infine, cosa potremmo dire al Governo nazionale per la gestione di questi fondi? Il Governo nazionale direi basta con lo shopping sui fondi strutturali, sui fondi per le aree sottosviluppate. Dobbiamo fermare il Governo, il Governo non si può permettere di andare a prendere sempre nello stesso pozzo, piglia l'acqua sempre in quel pozzo, che sono i fondi che dovrebbero essere prevalentemente destinati al mezzogiorno, così facendo fa scendere la spesa per il mezzogiorno ben al di sotto del 35%, quando l'obiettivo doveva essere il 45%, è una cosa insopportabile. Poi è ovvio, in questa fase, tutto quello che fa Berlusconi sembra fatto bene, ma poi bisogna andare a vedere sulle cose concrete che sta facendo, sulle scelte concrete, e tra le scelte concrete, quelle più gravi riguardano proprio il mezzogiorno. Ecco, ci viene un dubbio, dopo quello che ha detto, allo scadere dei fondi del periodo 2007-2013, con la crisi finanziaria planetaria che incombe e i ritardi italiani ormai nello spendere questi fondi europei, i ritardi italiani ormai sono leggende a Bruxelles, cosa succederà per l'Italia dopo il 2013? Noi veramente possiamo guadagnare la possibilità che l'Unione Europea ci dia fondi strutturali, quindi continui la politica di coesione dopo il 2013, se oggi non spendiamo queste risorse. Io già sento le voci cavernose e populiste dei nordici che vengono nella Commissione Bilancio con me e che diranno, ma con quale coraggio? Voi chiedete altri fondi se voi non spendete quelli che vi diamo. E allora noi dobbiamo smontare questo argomento. E per smontare dobbiamo spendere tutto e dobbiamo spendere bene. Comunque, in base alle domande di pagamento ricevute dalla Commissione, alla data del primo ottobre scorso, la Puglia risulterebbe in ritardo, anzi l'ultima in Italia, con appena 1 miliardo e 721 milioni spesi sui sei assi dell'obiettivo 1, con il 34,4% della spesa totale da certificare entro due mesi, entro il prossimo dicembre. La Basilicata sarebbe al 18,5%, cioè 433 milioni da rendicontare entro sempre il dicembre prossimo. In sostanza, quindi, la Puglia, con 6 miliardi e mezzo impegnati e pagamenti certificati per 4 miliardi e 3, vedrebbe andare in fumo per i POR, i programmi operativi regionali, 2000-2006, 2 miliardi e 100 milioni di euro che dovrebbero tornare a Bruxelles se non vengono spesi entro il dicembre prossimo. L'assessore regionale al bilancio della Regione Puglia, Francesco Saponaro, da parte sua ha spiegato che i dati della Commissione Europea sono errati, sono sbagliati. Il Ministero del Tesoro ha fatto sapere l'assessore Saponaro al 30 settembre scorso ha certificato che la Puglia su 5 miliardi e 200 milioni di quota pubblica, cioè il confinanziamento che deve assicurare il Governo nazionale e che sarebbe di 6 miliardi e 600 milioni a pagamenti la Puglia per 4 miliardi e 400 milioni. La Regione quindi, secondo l'assessore pugliese, ha attuato l'85,9% dei fondi con appena 729 milioni cioè il 14% di pagamenti da rendicontare entro dicembre prossimo. Tuttavia, resta un mistero. Secondo le tabelle del Ministero del Tesoro italiano, i dati danno ragione all'assessore Saponaro, mentre quelli della Commissione Europea dicono altro. Come mai? Ecco la domanda da porsi. Secondo Bruxelles, la Puglia deve rendere conto del 34,4% della spesa, mentre a Roma si indica il 14%? Ecco, adesso andiamo alla consueta rubrica settimanale da Bruxelles e Strasburgo con notizie che ci provengono sia dal Parlamento che dalla Commissione Europea. Questa sera parleremo del body scanner cioè nuovo apparecchio che vorrebbero introdurre anche negli aeroporti europei. Sono apparecchi che andrebbero contro la privacy. Poi c'è un bando di gara per sovvenzioni europee per la protezione civile. Aumenta comunque la prateria contro le navi soprattutto quelle europee nel corno d'Africa e quindi c'è questa posizione sia del Parlamento della Commissione Europea. Per l'ambiente vi sono nuovi finanziamenti stanziati dalla Commissione Europea quindi c'è la Green Card ecco quando parliamo sempre di immigrazione la Commissione propone di dare una tessera speciale agli immigrati qualificati con specializzazioni. Infine parleremo della proposta ma sarà votata certamente subito dal Consiglio per la distribuzione del latte frutta e verdura nelle scuole dell'Unione Europea. Ecco vediamo da Bruxelles e Strasburgo. approvando con 361 voti favorevoli 16 contrari e 181 astensioni una risoluzione sostenuta da tutti i gruppi politici il Parlamento ritiene che non vi siano ancora le condizioni per una decisione in merito alla proposta di regolamento della Commissione per includere tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri negli aeroporti dell'Unione Europea i body scanner ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate della persona come se fossero nude il che equivale a una perquisizione fisica virtuale. Per il Parlamento infatti tale misura lungi dall'essere puramente tecnica ha un grave impatto sul diritto alla riservatezza il diritto alla protezione dei dati e al rispetto della dignità personale pertanto deve essere accompagnata da misure di salvaguardia severe e adeguate. Dopo aver chiesto alla Commissione una valutazione di impatto sui diritti fondamentali il Parlamento vuole conoscere il possibile impatto sulla salute di tali tecnologie nonché una valutazione dell'impatto in termini economici commerciali e del rapporto costi benefici. L'Assemblea di Strasburgo si è inoltre riservata il diritto di verificare la compatibilità di tali misure con i diritti umani e le libertà fondamentali presso i servizi giuridici dell'Unione Europea e di adottare le misure necessarie sul seguito da dare. Durante il dibattito in aula il 21 ottobre oltre al commissario di trasporti Antonio Tajani sono intervenuti in nome dei rispettivi gruppi politici i deputati italiani Claudio Fava PSE Marco Cappato ALDE e Giusto Catania GUE NGL La Commissione Europea Direzione Generale dell'Ambiente Unità per la Protezione Civile ha pubblicato un invito a presentare proposte finalizzato alla selezione di esercizi di simulazione nel campo della protezione civile atti a beneficiare di un aiuto finanziario nel quadro della decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile detto aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di sovvenzioni le proposte devono pervenire all'indirizzo della commissione indicato nella guida per la richiesta di sovvenzioni entro il 19 dicembre 2008 Nel mare aumentano i casi di attacchi contro navi europee sia da turismo che da pesca in particolare a largo delle coste somale e del corno d'Africa il Parlamento europeo ha deciso di passare all'azione chiedendo alla commissione di considerare tali aggressioni atti criminali a livello internazionale i deputati vogliono regole più chiare contro le azioni navali dei pirati del mare enormi uniformi in tema di detenzione chiesta anche una coordinazione più efficace con la russa e gli Stati Uniti d'America anch'essi operanti nell'area non dobbiamo solo condannare ha dichiarato il commissario europeo ai trasporti Antonio Tagliani dobbiamo agire per evitare una pericolosa ricaduta a tempi in cui zone come la Cina meridionale Singapore il Golfo di Guinea e il Corno d'Africa erano in mano ai predoni la Commissione europea ha approvato il finanziamento di 143 nuovi progetti nell'ambito del primo invito per il programma Life Plus il Fondo Europeo per l'Ambiente i progetti presentati rappresentano complessivamente un investimento di 367 milioni di euro che include un contributo comunitario di 186 milioni di euro e concernano azioni nei settori della tutela della natura della politica ambientale dell'informazione e della comunicazione il programma Life Plus è il nuovo strumento finanziario europeo per l'ambiente per il quale è previsto un bilancio complessivo di 2 miliardi e 143 milioni di euro nel periodo 2007-2013 la Commissione ha ricevuto oltre 700 progetti da organismi pubblici o privati dei 27 membri dell'Unione Europea di questi 143 saranno confinanziati con riferimento alle tre componenti del nuovo programma Life Plus Natura e Biodiversità Life Plus Politica e Governance Ambientali e Life Plus Informazione e Comunicazione i progetti Life Plus Natura e Biodiversità migliorano lo stato di conservazione di specie e di abitati in pericolo tra le 264 proposte ricevute la Commissione ha scelto 58 progetti da finanziare nell'ambito di partneri dati conclusi da organismi di conservazione enti governativi e altri interessati i progetti Life Plus Politica e Governance Ambientali sono progetti pilota che contribuiscono allo sviluppo di idee politiche tecnologie metodi e strumenti innovativi tra le 325 proposte ricevute la Commissione ha scelto 74 progetti che saranno finanziati da una vasta gamma di organizzazioni del settore pubblico e privato i progetti Life Plus Informazione e Comunicazione divulgano informazioni sull'ambiente e mettono in rilievo le questioni ambientali oltre a prevedere la formazione e la sensibilizzazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi La nuova Green Card europea per i lavoratori immigrati altamente qualificati è attesa al valio della Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo Nel 2007 la Commissione Europea aveva proposto una sorta di piano di accoglienza europeo conosciuto con il nome di Blue Card per attrarre in Europa immigrati qualificati per far fronte agli scompensi del calo demografico ciò grazie a una tabella standard di qualifiche applicabili e discrezionalmente dai singoli stati membri La Green Card avrà valori di permesso di residenza e lavoro temporaneo per due anni rinnovabili sicurezza sociale inclusa solo il 5,5% degli immigrati qualificati provenienti dal Maghreb vengono da noi fa notare la deputata tedesca Eva Klamt il 50% sceglie gli Stati Uniti o il Canada in Germania ad esempio c'è bisogno di 95.000 ingegneri abbiamo sempre dato un'opportunità all'immigrazione legale se si vuole fermare l'immigrazione illegale possiamo chiudere la porta solo se si apre quella dell'immigrazione legale sono due le definizioni proposte dalla relatrice per definire il concetto altamente qualificati diploma di scuola superiore almeno 3 anni o qualifica lavorativa specializzata con almeno 5 anni di esperienza ma niente limite di età sottolinea negli Stati Uniti ad esempio con la Green Card si ha diritto alla cittadinanza a partire da 5 anni e le residenze permanente dopo 10 anni Marianne Fickerbore il commissario europeo con delega all'agricoltura ha lanciato una campagna europea per promuovere la ripresa del programma di distribuzione del latte nelle scuole questa campagna che ha come slogan il latte bevetene mira a informare gli europei sui benefici della consumazione del latte sul finanziamento alle scuole con fondi europei l'obesità il sovrappeso e le cattive abitudini alimentari sono problemi che interessano ormai i giovani dell'Unione Europea il problema risiede essenzialmente nelle cattive abitudini alimentari ed in una scarsa attività fisica elementi che a lungo andare possono accrescere il rischio di malattie cardiovascolari diabete infarto ed altri problemi di salute più avanti nell'arco della loro vita la priorità dell'Unione Europea è quella di sostenere lo sviluppo di corrette abitudini alimentari e nutrizionali un nuovo regolamento pubblicato a luglio prevede sovvenzioni a favore di un maggior numero di prodotti lattieri il latte e le sue varianti aromatizzate comprese le bevande a base di latte senza lattosio una più ampia varietà di formaggi compresi quelli magri gli yogurt e i prodotti lattieri fermentati il programma offre ormai alle scuole secondarie esattamente gli stessi diritti di accesso di cui godono le scuole materne ed elementari il nuovo programma è entrato in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2008-2009 ispirandosi al programma di distribuzione di latte nelle scuole la Commissione Europea ha recentemente proposto di attuare nell'Unione Europea un programma di distribuzione di frutta e verdura fresca agli alunni il programma non consisterebbe unicamente nella distribuzione di frutta e verdura fresca ma coinvolgerebbe anche gli stati membri nell'elaborazione di strategie nazionali che includano iniziative educative di sensibilizzazione e lo scambio di buone pratiche questo programma sarà messo in atto nel 2009 non appena il Consiglio lo avrà adottato ed ora manderemo in onda un servizio che indica gli sforzi che fa l'Unione Europea per collegare le periferie dell'Europa c'è questo grosso programma delle reti transeuropee fra cui nei famosi corridoi c'è l'asse ferroviario che deve collegare Berlino a Palermo questo progetto Berlino-Palermo semplificerà i viaggi in treno su uno dei principali assi di trasporto in Europa attraverso le Alpi tra la Germania e l'Italia grazie soprattutto al tunnel del Brennero 56 km di lunghezza renderà più veloce la traversata delle Alpi a vantaggio di viaggiatori e di merci la durata del percorso tra Berlino e Monaco sarà ridotta di due ore e mezza la cresciuta capacità di questo collegamento e una migliore qualità del servizio determineranno certamente una nuova domanda di trasporto ferroviario che dovrebbe ridurre gli ingorghi stradali su questo asse strategico da nord a sud dell'Europa il coordinatore europeo designato dalla commissione per la realizzazione dell'asse Berlino-Palermo da completare entro il 2015 lo speriamo tutti e Carl Van Mert è un belga già commissario europeo per la concorrenza che ascolteremo nel servizio che ora manderemo in onda ecco l'asse ferroviario Berlino-Palermo se vogliamo un'Europa competitiva e creatrice di posti di lavoro le persone e le merci devono poter circolare con facilità e rapidità e devono farlo senza danneggiare l'ambiente questo è l'obiettivo della rete transeuropea dei trasporti un vasto programma a livello continentale che mira l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto nazionali al fine di formare una vera e propria rete transeuropea lanciata agli inizi degli anni 90 la rete transeuropea dei trasporti non ha ancora realizzato i suoi ambiziosi obiettivi si scontra per un verso con difficoltà di finanziamento e dall'altro con difficoltà di coordinamento trasfrontaliere e nel frattempo il traffico sulle strade europee non smette di aumentare esistono tuttavia alcune soluzioni le merci che oggi viaggiano su strada possono essere indirizzate verso altri modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente come la ferrovia le vie navigabili e il mare si tratta del cosiddetto trasferimento modale ossia passaggio da un modo di trasporto saturo a un altro meno utilizzato una soluzione fortemente sostenuta dall'Europa in questo contesto la ferrovia offre un valido sbocco per alleggerire i principali assi stradali transeuropei è il motivo per cui l'Unione Europea vuole dare un nuovo impulso ai progetti ferroviari transeuropei l'Unione ha individuato cinque assi ferroviari fondamentali la cui realizzazione non avanza a ritmo particolarmente sostenuto a causa di ostacoli di vario genere al fine di incoraggiare l'attuazione di tali progetti l'Unione Europea ha nominato dei coordinatori europei delle personalità di spicco che si occuperanno di questi assi e la cui missione è finalizzata a riunire intorno a un tavolo gli stati membri interessati trovare una soluzione ai vari problemi e accelerare l'esecuzione dei progetti Karl Valmierter è uno dei coordinatori svolge il ruolo di promotore per l'asse ferroviario Berlino-Palermo l'asse prioritario numero uno è il grande corridoio nord-sud del centro dell'Europa si tratta di uno dei principali assi del trasporto fra Germania e Italia la modernizzazione delle linee esistenti e la realizzazione di nuove tratte ad alta velocità contribuiranno ad accrescere la capacità dell'asse nonché la velocità dei treni in misura significativa i collegamenti verso le regioni periferiche del sud dell'Italia saranno resi più facili con una riduzione considerevole dei tempi di percorso I lavori più importanti sono concentrati sulla nuova galleria del Brennero una galleria transalpina lunga 56 chilometri alla fine di giugno 2006 sono iniziati da entrambi i lati i lavori di scavo delle gallerie di ricognizione l'ampio cantiere trasfrontaliero fra l'Austria e l'Italia dovrebbe essere completato nel 2015 grazie a questa galleria di base e alla sistemazione delle linee d'accesso la capacità e la velocità di trasporto delle merci e dei viaggiatori aumenteranno notevolmente e consenteranno al trasporto ferroviario di essere più competitivo rispetto al trasporto su gomma Il buon notizio è che tutti i autorità che sono in accordo ciò che dovrebbe essere fatto in prossimi mesi è assicurare che il finanziamento può essere assicurato e anche che altre decisioni come quale consorzio sarà in charge di questo tipo di progetti saranno decisivati quindi l'idea è di avere tutto che è decisivo in prossimi mesi mesi in quanto tempo questo progetto questo tunnel sarà iniziato e sarà materializzato Una volta ultimate le nuove linee ferroviarie e il potenziamento di quelle esistenti nell'insieme della rete permetteranno a milioni di europei e di imprese di beneficiare di una migliore mobilità a livello del continente ciò è essenziale per un'Europa più competitiva Bene con questo abbiamo concluso non ci resta che darvi appuntamento alla settimana prossima Grazie a tutti Grazie a tutti